Sindaco, ma secondo lei la sfiduceranno? Non è che io posso stare nella testa dei consiglieri. Insomma, un'opinione si sarà fatta, no? Io un'opinione me la sono fatta, poi ognuno quando fa un atto lo fa in coscienza e poi si prende le conseguenze con la città. Allora, la delibera sull'esternalizzazione poteva essere discussa dopo 15 giorni, come direva il capogruppo del PD? Non è un fatto di capogruppo, quello è un atto di indirizzo, lei lo sa meglio di me, l'atto di indirizzo si può emettare e quindi poi si potevano trovare tutte le soluzioni, ma non è che un atto o un pacchetto definitivo. Quindi nessun atto d'imperio da parte? Assolutamente, ma non è né nei miei modi né nella mia educazione.